Musica Benvenuti a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Siamo su Valenti Hares Allora, iniziamo, continuo Ok, allora Dobbiamo Andare da qualche parte Ok Sta morendo qualcuno Ok Era sotto un cavallo Cosa vuoi? Ok E che ti aiuto Ok Ancora? Ok A B Ok Inchia Ok 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 Ok, l'abbiamo aiutato Ok ok allora vediamo un po' tu cosa mi devi dire kit medico ok di là ok qua sta morendo qualcun altro allora vediamo ok tu cosa ti serve una sega cosa ti serve ai calzini ok allora sempre una sega per tagliare la gamba ok 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 vai oh cazzo io ho paura per lui ah cazzo sta morendo ok 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 l'abbiamo salvato ok vediamo un po' non c'è più il cavolo tu cosa hai bisogno niente no ok tu hai bisogno di di acqua quello vuole una stampella aspetta eh fammi andare qua ah ok 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 ho capito allora aspetta un attimo allora dobbiamo andare qua dentro e mettere questa terra domani ok si ok si ha bisogno dell'acqua lo so non corre cazzo vabbè ok andiamo di qui tira ok si rientro d'acqua vediamo qua che c'è qua mi serve qualcosa allora si arrivo 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 dai entra prendiamo l'acqua che abbiamo appena aperto ok andiamo di qui toglie l'acqua ok poi 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 dobbiamo scendere penso io dai 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 c'è un cazzo qua ok non c'è niente vabbè proseguiamo tu cosa vuoi una tomba ok tu niente ok vuole questo quello una benda eh eh finché si pesa sta roba dai dai ci sono quasi ok 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 ah qua c'è ok questo qua è considerato come una stampella in teoria anche se è una pala però spero aspetta ok penso che significa cioè spero che sia giusto vediamo ok mamma mia ok allora quello vuole il coso una benda che abbiamo visto indietro però serve un'ascia per buttare giù l'albero quindi devo trovare la benda ok vediamo l'ascia per trovare ok faccio qualcosa un pettino che cazzo è l'ascia ecco ho capito ma che cazzo è l'ascia forse c'è qualcosa che brilla però ok sì c'è niente qua merda però non lo so proviamo proviamo a vedere qua se trovo qualcosa allora andiamo qua dentro forse con questo visto che me la vedo indietro penso che funziona sull'albero puliamo sempre un seghetto vediamo se ho ragione se ok prendi questo che lo portiamo al tipo che gli serve una benda scusa portarti tutta la roba da casa no anzi andrà la ricerca degli oggetti cazzo ok dai sto arrivando a non morire ok diamo un po' sinceramente ok si si dai dai ok 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 sta volendo ok ce l'abbiamo fatta ok ok forse no indietro indietro dov'è dov'è ma prima non c'era sta arrivando sta arrivando ok questi dono mandai ok ok merda ma apri la dai no non devi morire il zio dai pulisci la benda ok 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 no 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 sta morendo non devo sbagliare ok ce l'abbiamo salvato che i francesi sono parlavano del belgium l'armigia germana era about to experimentare con una nuova arma Nereypre, l'amica di casa l'amica 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 è stata riuscita a farlo di farlo dell'imminente l'amica all'interno della città l'amica di siren ok ragazzi ci vediamo qua alla prossima volta, ciao ciao